Ciao a tutti amici digitali e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora oggi parliamo di come, andiamo a vedere come programmare, quindi come pianificare dei post su Instagram e su Facebook. Questa funzione è davvero molto comoda, è davvero molto interessante quando magari abbiamo un periodo impegnativo, che magari dobbiamo comunque però mantenere una certa costanza di pubblicazione sui social network, o proprio per una questione di comodità, per gestire meglio il nostro tempo. Magari pianificare un post oggi per domani, ma anche pianificare tutti i post della settimana prossima, ad esempio, perché magari la settimana prossima siamo impegnati. Quindi questa è una funzione molto comoda, ma bisogna utilizzarla nel modo giusto. Ci sono diverse piattaforme, applicazioni, servizi web che ti propongono, che vi propongono di appunto pianificare, che ti offrono questo servizio, quindi di pianificazione dei vari post. L'unico problema è che appunto queste applicazioni sono applicazioni terze, quindi non sono servizi che offre direttamente Facebook, la maggior parte. Oggi invece io voglio farvi vedere qual è il metodo giusto per la pianificazione dei post su Instagram e su Facebook, ovvero quello di utilizzare il creator studio di proprietà di Facebook. Quindi, per chi non lo sapesse, Facebook mette a disposizione un creator studio dove è possibile andare a pianificare i nostri post. Quindi oggi andiamo a vedere nello specifico come fare. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di lasciare subito un bel like al video. Ma adesso ci spostiamo direttamente al PC e andiamo a vedere come funziona. Ok, perfetto. Eccoci qui. Ci basta digitare su Google Creator Studio Facebook o comunque vi metterò direttamente il link in descrizione. Andiamo qui. Eccoci qui all'interno del Creator Studio. Qui in alto, come potete vedere, possiamo sia gestire la pubblicazione su Facebook ma anche su Instagram, cliccando direttamente qui. Adesso andiamo a vedere come pianificare un post su Facebook dopodiché vedremo anche su Instagram. Allora, la prima cosa è andare qui. Adesso stiamo su Facebook. Andiamo su Crea Nuova. Andiamo su Crea Post. Qui sulla sinistra mi è comparsa una lista di pagine. Io ho cliccato la mia pagina, questa qui. È appunto la pagina dove vogliamo. dobbiamo cliccare la pagina dove vogliamo pubblicare il post in questione. Clicchiamo ad esempio su Condividi una foto. Ok, ho caricato la foto che voglio pubblicare. Qui in basso possiamo andare su questa freccetta a fianco a Pubblica e possiamo cliccare su Programma. Qui possiamo scegliere la data e l'orario dell'uscita del post. Ad esempio, se voglio far uscire questo post domani andrò ad inserire direttamente la data e l'orario in questione. Dopodiché mi basterà cliccare su Programma. Vi faccio vedere, andiamo ad esempio a mettere 11 agosto. Possiamo lasciare 11.34. Vado su Programma e qui ci comparirà Pubblicazione riuscita. In questo modo abbiamo programmato, quindi pianificato, la pubblicazione del nostro post sulla nostra pagina Facebook. Ok, andando invece qui in alto su Instagram possiamo fare la stessa identica cosa. Andiamo su Crea Post, andiamo su Feed di Instagram oppure IGTV se vogliamo pubblicare un video. Dopodiché andiamo a prendere la nostra... E qui possiamo andare a creare il post. Andiamo ad aggiungere il contenuto, andiamo su Carica File posso mettere sempre la solita foto. Ok, e qui posso scrivere il post. Ok, esempio. Qui possiamo aggiungere un luogo. Qui possiamo scegliere se pubblicarlo anche sulla pagina Facebook in questo caso l'abbiamo già pianificata, quindi no. Andiamo sempre qui su questa freccia e possiamo cliccare su Programmazione. E anche qui abbiamo la possibilità quindi di scegliere il giorno e l'orario della programmazione. Ad esempio 12 agosto. Qui possiamo selezionare... Qui possiamo scegliere alle 10 di mattina, quindi 10.00. E mi basterà cliccare anche qui su Programmazione per pianificare l'uscita del post. Ok amici, per questo video è tutto. Come sempre se avete dei dubbi potete lasciare un commento qui sotto. Io vi lascerò qui la playlist delle idee di business dove ci sono dei video davvero molto interessanti. E qui sopra il pulsante per iscrivervi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!